ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino punto com appuntamento numero 19 con la nostra diretta del mercoledì versione post partita perché ieri 24 ore fa poco meno la spalla ha perso in maniera imbarazzante contro la regina ne parleremo parliamo di questo e tutto quello che ci gira attorno con i soliti noti martina poletti leo bis scuola ciao ragazzi ciao buonasera a tutti ciao a tutti è bello poter parlare ancora di cose divertenti siamo siamo in contemporanea con inter liverpool di champions league quindi non è facile fare audience ma chi ama la spalla non è interessato al calcio minore quindi contiamo contiamo sull'usuale seguito che che abbiamo ciao mauro ciao elena ciao alessandro ciao stefano ciao mattia ciao alessio ieri la spalla non ha giocato tutto frutto della vostra una chiave di lettura una chiave di lettura interessante alla quale non avevo pensato ciao sole ciao simone insomma ciao a tutti quelli che si sono collegati giusto in tempo per seguirci allora cari i ragazzi partiamo da qua la prendersi è stato il punto più basso della stagione o ce ne dobbiamo aspettare uno ancora più basso da rispondere alla domanda e no è un tema perché io ho letto diversi commenti ieri sera diciamo aveva questo è il punto più basso della stagione io tendo a dire aspetta perché mancano ancora quante 17 no 15 partite il punto più basso finora in ora esatto quindi la mia risposta definitiva raccendo così quindi praticamente stiamo per fare il funerale alla spalla no 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 dai insomma io credo che che serva serva un po di equilibrio come la persona che avevo detto prima prima della diretta ho letto anch'io tantissimi commenti sono sono un po interdetto ecco da sia da alcune vabbè chiaramente la rabbia dei tifosi è comprensibile e la rabbia di tutti ieri sera io che fortunatamente per questioni di lavoro sono rimasto a casa e quindi orla tu riccardo mi siete presi il freddo e ero incazzotissimo lo sono anche oggi perché comunque ci sta a perdere non è questo il punto ma perdere con quella faccia lì con quella poca voglia di fare è un altro discorso è difficile dire se questo è il punto più basso della stagione della spalla è chiaro che ci si augura di no oggi io diciamo ci si augura di sì ci si augura di sì diciamo che fortunatamente chi sta dietro non è che stia facendo cose tanto meglio l'Alessandria oggi ha fatto un altro punticino contro Lecce ha fatto un altro vinceva e quindi il Lecce ha fatto gol a metà secondo tempo verso la fine però diciamo se io voglio credere e lo dico in maniera molto tacopignana non che la spalla sia da playoff perché è evidente che non lo sia però che non sia neanche quella brutta roba che abbiamo visto ieri su questo sono abbastanza d'accordo con te leo nel frattempo sono già arrivati dei commenti e quello che mi sento di fermare e leggervi è quello di Piero che dice di essersi appena scollato una bottiglia di vino per dimenticare ma non ce la fa quindi direi che l'animo è stato riassunto bene da tra l'altro caro Piero oggi il governo ha anche bocciato il referendum sulla cannabis quindi mi sa che se vogliamo essere proprio precisi Alessandria in gran forma dice Stefano sfiorata la vittoria col Brescia e pareggio meritatissimo con Lecce però ecco prima di passare all'argomento forte della serata ovvero la strippata di Giotta Coppina in tribuna stampa anche perché ci tengo a raccontare come è avvenuta perché noi cioè noi la maggior parte delle persone conosce i contenuti ma le modalità sono altrettanto interessanti non c'è stato il tempo di raccontarle prima di passare a questo una cosa che voglio chiedervi aspetta devo mettere il titoletto che non l'ho preparato prima è tristi o tristi cioè sapete che a me piace giocare col senso delle parole nel senso questa squadra è triste nel morale nell'umore è una squadra che non ce la fa cioè che ci impegna ma anzi scusate che che non si impegna perché è triste sopraffatta gli eventi o è triste nel senso che che è limitata molto limitata e più di questo non riesce a fare perché tanti ieri sera mi hanno detto ma guarda che la squadra ci ha provato è che è che è questa è che una squadra che quando va sotto non riesce a fare un tiro in porta ma la mia sensazione che non ho avuto sicuramente solo ieri sera è che si giochi sempre in modo molto confusionario non ci sia mi sembra sempre che non ci sia un'idea che si rincorrano si si buttino lì la palla così e si spera sempre che venga fuori qualcosa di buono e questa è un po' la sensazione un po' di caos poi vabbè sempre dare le attenuanti dell'umore sinceramente sono due anni che andiamo avanti a tirar fuori sempre l'umore che cosa può essere successo di nuovo per aver buttato Giuliani in questa maniera qui se non se non riuscire a non vincere da più di due mesi se pensi che poi non vinciamo in casa da settembre ok cioè può essere un motivo di di sconforto sicuramente però una certa io ti dico siete professionisti iniziate a mettere anche un po la testa su su questo e cercare di dare una svolta la porta d'animo direi che deve essere abbastanza una caratteristica degli atleti per quello che penso io poi io non sono un atleta a me a me è venuto in mente un commento che qualche nostro lettore aveva fatto sulla pagina facebook dopo una delle amichevoli della spalla in cui chiedeva perché non dare non prendere rock e dare indietro un libro rock ne approvvisto per salvere daniele pro che perché lo conosco ciao daniele salutiamolo si vuol venire al posto di vostri bro ma io credo che in questo commento ci sia anche un po un po di verità nel senso che la spalla non è che sia sto gran squadrone quest'anno è stata costruita in fretta e questa era l'attenuante che era stata data è stato fatto un mercato di riparazione sufficiente nei numeri nel senso che si è andato a inserire numericamente quello che mancava non qualitativamente perché comunque a me personalmente la prestazione del portiere di ieri sera e in generale il fatto che non sia arrivata la famosa punta da gol che se guardiamo è stato il problema anche di ieri sera ma è stato il problema anche della precedente partita la spalla nel primo tempo a me non è dispiaciuto io l'ho vista dalla tv ripeto non era lo stadio quindi ho una visione limitata però la spalla a me non è dispiaciuta il problema è che se prendi quel problema che ha preso gol al primo primo azione offensiva è che se prendi quel gol chiamiamoli da culo perché questo è il termine tecnico in cui è stato preso raga e da chi cosa e da chi il primo gol tra l'altro ma io non ho ancora chiaro se ha segnato tu minello se l'autogol di celia infatti credo che anche la lega di serie b l'abbia dato abbia dato l'autogol a celia quindi non c'è neanche la soddisfazione di dire abbiamo preso gol da tu minello però entra nella lista marcatori celia ovviamente no la spalla a me devo essere nel primo tempo a me non è così dispiaciuta e poi vabbè ha provato a fare quella quei 15 minuti finali in cui ha messo su ha fatto vedere qualcosa di diverso ma ormai la situazione era ampiamente compromessa quindi io non credo che la spalla sia psicologicamente triste credo che abbia delle lacune in alcuni reparti tali per cui siano reparti strategici guarda caso la punta e il portiere ed iniziano che non si riesce a raddrizzare questo non anche la difesa abbia brillato particolarmente o a metà campo si siano visto chissà quali spunti però se vai a riposo 1 a 0 cioè il gol che è stato preso al di là della della non marcatura perfetta se vogliamo di peda tutto quanto i movimenti anche nei nei gol del secondo il terzo gol la difesa è stata praticamente immobile però quello secondo me è stato poi lì sì che entra la comunità psicologica che non riesce a vincere due mesi però all'inizio tu stavi vincendo in casa tutto andava bene prendi fai c'è un traversone sul secondo palo e prendi un gol così è difficile poi andare a far punti se hai questi deficit in questi ruoli strategici secondo me non è la squadra di per sé non è così scarsa però ragazzi ci sono dei ruoli che sono veramente troppo importanti per essere lasciati nelle mani passatemi il termine ne vogliono i giocatori che promette ci stanno ascoltando però di persone che non sono adatte in questo momento a ricoprire quel ruolo tutto lì dozzina di commenti facciamo anche fatica a starci dietro devo essere sincero comunque diceva stefano che la squadra è macchinosa e il gioco è leggibilissimo e poca precisione emiliano dice che il gioco confusionare ci può anche stare ma la grinta è un'altra cosa non riusciamo ad assediare neppure in casa nostra in diretta una diretta concorrente poi vedo che iniziano ad esserci un po di domande sul tema venturato tema tacopina cosa faccio le tengo un po in sospeso teniamole lì teniamole lì anche se sul portiere vabbè sempre sull'argomento tristi o tristi abbiamo un campione limitato per giudicare Alfonso certo è che sul primo scusate sul secondo gol sul primo gol fa un miracolo perché Tuminello poi si ritrova la palla tra i piedi perché Alfonso ha fatto un'ottima parata di sfiga insomma lì può capitare a volte ti va bene a volte ti va male insomma sì ho capito però il secondo gol oggettivamente non riesce a leggere quella traiettoria poi si è visto soprattutto al vivo che lui dà la colpa a peda peda non brilla perché quello è il suo uomo però diciamo che anche anche lui non è che abbia fatto una lettura perfetta della traiettoria quindi Alfonso può avere un attenuante non giocare dal primo minuto da marzo 2021 quindi insomma probabilmente aveva un po di ruggine da da grattar via mettiamola così adesso sono curioso più che altro qualcuno prima lo chiedeva cosa farà avventurato adesso coi portieri perché ovviamente ogni volta ogni volta che ne viene messo uno uno combina qualcosa salvo orare eccezioni non lo so come gestirà la cosa avventurato anche perché ieri sera quando gliel'abbiamo chiesto ho detto ho messo Alfonso per via della maggiore esperienza in un'ottica di turnover insomma ovviamente ci ha girato attorno non è che potesse dire ti amo ha fatto due vacate contro il monza e allora gioca quell'altro cioè può anche essere che sabato a vicenza giochi ti amo non sarei sorpreso di questo non lo troverei non lo troverei così scandaloso nemmeno perché evidentemente è venturato uno sta cercando l'ipotetico titolare due però si è anche affrettato a sottolineare che lui non ha titolari inamovibili cioè lui dice dipende dal momento dalle avversarie dalla settimana tutto il resto quindi sono sono curioso sono curioso di sono curioso di vedere commentatore che chiedeva come mai rossi giochi solo dieci minuti non credo che possa fare di perché quelli non cioè nel senso probabilmente potrebbe giocare anche una partita intera ma se rimanesse piantato con i rivetti in area senza recuperare senza rientrare senza dare la mano alla squadra cioè mi sembra che la sua condizione condizione fisica sia quella cioè non penso possa dare molto di più insomma anche perché abbiamo visto soprattutto nelle ultime tre quattro partite gioco di venturato è un gioco sul lungo raggio nel senso anche il gol è stato costruito con una giocata cioè palla lunga per uno dei due attaccanti che tende a svariare sul fronte d'attacco in questo caso video è rimorchio dietro arriva mancoso fa gol quindi non me lo vedo rossi a fare il lavoro che ha fatto video ieri sera e tra l'altro vorrei sottolineare una roba su video perché si prende tante porcate perché non tira in porta però video ha fatto se non sbaglio tre partite con la spalla ha fatto due assist quindi poi per l'ultimo dei pirla non è dai quindi secondo me è un attaccante funzionale per questa squadra il problema è che questa squadra mette tante magagni che ovviamente si fa presto a pensare dire se avessimo preso la mantia al posto suo non saremmo in questa situazione io non credo sia così cioè nel senso che non abbiamo la controprova di questo però vi ragioni ma non credo neanche così no comunque a me video per quello che ha fatto vedere in queste partite qua secondo me come dici tu è un giocatore a parte che è stato voluto avventurato quindi è chiaro che si è avventurato a far giocare la squadra in quel modo sia con lancio lungo a cercare lo scatto di finotto che poi purtroppo finotto scatta e basta in questo momento perché più di quello non riesce a fare e video invece è uno che mi sembra che si sbatta un sacco e poi obiettivamente fa anche qualcosa di concreto come detto tu orla ha fatto due assist non sarà il goliador non sarà chi la famosa golla punta perché comunque non l'è mai stato cioè è inutile che non lo è ancora non lo sappiamo a 25 anni quindi ho capito però le statistiche sono quelle lì poi può succedere da oggi in poi non lo sapremo mai ma ad oggi ci sono i giocatori che hanno delle caratteristiche tali per cui hanno segnato molti più gol video no quindi è anche difficile aspettarsi un cambio di passo proprio così a Ferrara improvvisamente no voglio rispondere a Marcello Micai che che scusa poi che chiama in causa sarà pinna ci avevo pensato a invitarla stasera ma siccome è troppa roba di cui parlare avremmo avremmo un po' ingolfato la situazione per quanto effettivamente sia sempre un richiamo notevole insomma non so se il picco l'abbiamo raggiunto con lei c'è il picco storico del diretto poi abbiamo raggiunto con lei se abbiamo fatto meglio quest'anno ma insomma diciamo che sì Marcello ci avevamo pensato e allora finotto le tristi ci arrivano veramente tante 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 riprendere io un commento di Raffaele che secondo me tira in ballo un argomento con l'assenza di Viviani abbiamo perso un registro un registro di centrocampo quindi sì certo quanto ha inciso quanto ha inciso e inciderà l'assenza di Viviani in questo momento? incide perché l'interpretazione del ruolo da parte di Viviani è diversa da quella di Esposito ma c'è proprio anche poi un tema di esperienza di livello tecnico di personalità personalità esatto hai detto bene sono giocatori un po' diversi cioè se la personalità è trovare un compagno con un passaggio in verticale 30 metri o litigare con chiunque e fare finta di essere stato ferito gravemente a ogni contrasto ecco nel mio caso penso sia più la prima che la seconda però qualcuno potrebbe dissentire insomma soprattutto se si chiama Esposito di cognome detto questo non credo che si stia scoprendo l'acqua calda rispetto al fatto che l'atteggiamento di Esposito vogliamo definirlo vagamente irritante non lo so però finché lo è per gli avversari mi va anche bene ma se lo è per gli addetti di lavoro e pubblico di casa mi pare che ci sia qualche problema ma fermo restando che cioè anche lui triste o triste perché cioè lui l'impegno ce lo mette come fai a dire che Esposito non si impegna? Esposito si impegna ma io non riesco a ricordarmi una giocata che mi abbia fatto dire oh però bene e questo è il problema ma su quello cioè secondo me Esposito non è triste inteso come che poi scusa Leo adesso non dobbiamo stare qua a fare una diretta e fare il processo tutti eh perché se no non riusciamo più però insomma ieri è successo insomma la seconda sconfitta di fila la spalla ha preso quattro gol l'ultima partita e tre gol l'ultima insomma qualcosa che non va cioè se dobbiamo tornare nel tema triste tristi eh qualcuno lo scriveva anche prima però non riesco più a trovare in commento eh l'emblema se vogliamo è veramente Vicari cioè io questa sera eh mentre cenavo ho guardato la partita eh del Lecce contro Alessandria da entrambe le parti per motivi ovviamente diversi per scopi diversi cioè i giocatori sembrava veramente che combattessero su ogni pallone ma proprio l'atteggiamento eh alla Mancoso ad esempio ma ieri Mancoso è piaciuto un sacco ma non Mancoso era incazzatissimo ieri sera si vedeva lontano più eh ma perché gli altri non lo sono è questo il punto cioè perché perdere prendere tre banane in casa prenderne quattro fuori a Monza va bene lo stesso cioè a me è questo che che io non riesco non riesco a soffrire è una cosa che non è tanto il triste perché sono scarsi è questo cioè non è non è non è ammissibile neanche per le persone oggi mazzo la scritta giusta cioè i giocatori dovevano andare a stringere la mano a tutti i 3.000 erotti che c'erano ieri nello stadio non so se fossero 3.000 e invece sono rimasti a 50 metri dalla curva quando è stato ora di andare a prendere i fischi ma questa è personalità cioè semplice se vi ricordate quante volte a parte che ci va 4 o 5 cose però una di queste era che voleva giocatori con personalità quest'anno ci sono dei giocatori con personalità pochi uno forse due sì dopo se la personalità non è una cosa misurabile dipende sempre anche da come si mette una stagione però cioè io non capisco perché i giocatori della regina prendono gol e gli viene addosso la carogna e si buttano in avanti e ti picchiano per gli restanti 75 minuti quelli della spalla fanno gol e diventano quelli che si fanno picchiare ma perché io non capisco perché non davvero cioè ok c'è un deficit di personalità in alcuni giocatori perché non tutti sono messi così non tutti però è quello che non riesco a capire allora preferiamo una squadra che gioca bene o una squadra che picchia tutti non lo so magari c'è una via di mezzo in cui gioca discretamente picchi anche tutti però non riesco a capire questo non riesco a capire cosa manchi per fare in modo che la spalla faccia una prestazione di quel tipo perché anche quando ha deciso di fare prestazioni diciamo così prudenti e cosenza crotone ha portato a casa due sfangate epiche ma che se qualcosa fosse andato storto quelli diventavano due pareggini del cazzo oppure addirittura delle sconfitte che adesso ti farebbero sprofondare nella melma quindi quelle due partite che hanno rappresentato secondo me l'apice della speculazione tattica che tanto non piaceva cioè hanno fatto vedere che la spalla non è proprio tagliata per quel tipo di partite lì e figurati se dovesse dio ce ne scampie liberi giocare un play out perché dove lì che c'è la pistola puntata figurati c'era un commento tra l'altro fatto all'inizio di un nostro commentatore che chiedeva come funziona quindi se magari dopo puoi dedicare non usciamo più se cominciamo a parlare di play out con questa classifica oggi i play out si giocano perché ci sono solo quattro punti tra la spalla e il senza se ce ne fosse uno in più non si giocherebbero andrebbero giù quattro dritte e siete tutti felici tranne quelli che vanno giù e se si gioca play out ne parliamo più avanti quando 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 io vorrei inserire due partite non è una secca sono due partite un altro un altro tema collegato a quello che diceva ora prima non è facile analizzare la situazione e capire dov'è la problematica forse matematicamente parlando è un'equazione con più incognite ma secondo voi la spalla intesa come società al suo interno dopo parliamo della comitiatura della sbroccata di tacopina e delle conseguenze che potrebbe avere nel pieno nel male ma c'è qualcuno dentro la spalla che può spalla mondo spalla non dico squadra parlo tutti come organizzazione esatto la spalla organizzazione che ci stia capendo qualcosa e sappia uscire da questa situazione perché noi tre che siamo qui dentro con gli altri 170 che ci stanno ascoltando in diretta in questo momento noi non possiamo avere la la parola magica o avere un quadro limpio della situazione facciamo al massimo delle ipotesi ma la mia preoccupazione più grossa è che chi dovrebbe avere in pugno la situazione in questo momento faccia fatica a trovare il banzo della matassa perché secondo me ragazzi questo è il vero problema non è la spalla che prende tre gol il problema è un altro è che non si sa quali siano i problemi ma io penso che questa sia la perfetta introduzione per parlare di quello che poi ha detto ieri sera tacopina perché c'è una sbroccata del genere da proprio l'idea del fatto che ci siano veramente dei dubbi e delle incognite che non sono ancora state spiegate diciamo così partiamo dal presupposto che tacopina è nel calcio italiano da più di dieci anni ma diciamo che la sua è una conoscenza manageriale del calcio ma delle dinamiche diciamo strettamente tecniche secondo me non ne mastica granché no però penso anche che se avesse qualcuno di vicino a lui che gli trasmettesse o quantomeno una solidità di soluzioni di dire va bene adesso è così però vedrai che cioè questa è la mia ipotesi cioè se io sto andando male e qualcuno mi rassicura dicendomi che probabilmente c'è qualcosa che non va però si può correggere infatti l'idea che mi ha dato tacopina ieri dopo capiremo se secondo voi è stato meglio è stato bene o male che abbia fatto queste uscite mi ha dato proprio l'impressione dal punto di vista aziendale e del management di un capo dell'azienda che non è circondato dalle persone che gli sanno dare le risposte corrette e quindi brancola un po' nel buio e fa e ha fatto questa uscita perché in ogni azienda il capo va a parlare con i responsabili dei vari uffici per avere le risposte di cui ha bisogno se il capo della baracca fa un'uscita di questo genere qua attaccando tutti secondo me c'è qualcosa che non va è per questo che mi facevo quell'introduzione prima perché a me è questa la cosa che preoccupa di più non è tanto il gol che ha preso o che Vicari non marca o che Alfonso vada a farfalle non è questo il punto a me preoccupa che non ci sia qualcuno in questo momento che stia tenendo la barra dritta Leggo un commento che mi trova in forte disaccordo ma più che altro per una questione di fatti Giordano ci vuole Mattioli come presidente e vedi come cambiano sudano la maglia Giordano è possibile che tu abbia la memoria corta perché l'anno scorso Mattioli era presidente stavamo parlando più o meno delle stesse cose e l'anno prima ancora è meglio stendere un velo pietoso perché quella retrocessione in Serie A è stata una delle più imbarazzanti penso della storia della Serie A in generale quindi c'era Mattioli presidente non mi sembrava che i giocatori sputassero fuoco qui non è un tema di chi è presidente qui è un tema di come probabilmente è organizzato il lavoro cioè ci sono mille componenti che andrebbero analizzate e servirebbe che qualcuno fornisce delle risposte credibili si spera che già Venturato in conferenza stampa venerdì ci dica qualcosa fermo restando che Venturato non è proprio così generoso in termini di risposte quando è interpellato su qualunque tema in realtà perché in questo è un po' simile a semplici cioè da delle risposte abbastanza standard e tanti saluti Crotetta da questo punto di vista era un pochino più divertente allora scusate c'è chi dice il primo che salta è Zamuner dice Andrea Sartini a generale sono arrivate solo terze scelte il problema è che la squadra è fatta male quindi Zamuner non ha colpe un attimo allora chi ci segue sa che io ho grande stima di Giorgio Zamuner a livello personale cioè io lo trovo una persona sopra la media per il mondo del calcio mi chiedo però perché tanti chiedono la testa di Zamuner e non quella di Tarantino vorrei capire questa cosa perché sono due che gestiscono l'area tecnica Zamuner e Tarantino però il 90% dei commenti Zamuner non incapace Zamuner deve andare al di là del fatto che è possibile che Zamuner vada a fine stagione perché ha il contratto in scadenza a differenza di Tarantino quindi può anche dire che Tacopina alla fine stagione dica vabbè Zamuner è la magagna che vada via ok scelta che può essere anche legittima dal punto di vista di Tacopina però diamo i meriti 50-50 ma anche i demeriti 50-50 se no stiamo facendo un torto a Giorgio Zamuner perché sembra quasi che i giocatori scelga lui li prenda lui e faccia tutto lui ma non è così che funziona ma io non ho l'impressione in realtà che sia indicato Zamuner come il principale artefice della semi disfatta fino a questo momento cioè vedo commenti negativi un po' raggio cioè da Tacopina Zamuner Tarantino secondo me non è preso di mira semplicemente perché è meno possedermi il termine conosciuto nel senso che è un po' meno in vista parla avrà fatto tre conferenze stampa da quando c'è quindi forse qualcuno ancora non lo conosce Zamuner è nella baracca da un po' più di tempo e quindi probabilmente è per questo ma non credo ci sia una responsabilità oggettiva attribuita a Zamuner comunque ragazzi è ora di parlare delle dichiarazioni di Tacopina perché ci stiamo girando un po' corno troppo tempo a Edoardo che dà un'argomentazione secondo me un po' sciocca conosciamo Zamuner di Tarantino non lo sappiamo molto ho capito e quindi se conosci uno gli dai la colpa e l'altro non lo conosci gli dici ok a posto perché non so cosa fa che discorso è ma no secondo me penso si riferisca più al fatto che Zamuner è più tra virgolette esposto rispetto a Tarantino non è che se uno è più esposto ha più responsabilità cioè questo non si parla in termini di responsabilità è che tendenzialmente se sei più esposto sei anche più propenso a pegliarti i maroni scusate Luca Pocaterra dice Zamuner voleva riscattare il muro qualcuna società lo ha stoppato è vero Luca questa storia è vera l'abbiamo verificata e straverificata era così cioè Zamuner voleva riscattarlo ma il colombarino ha detto no non tiriamo fuori neanche un euro scordatelo quindi se riesci a prenderlo a 100 euro va bene ma quella cifra non accettiamo ma quello è stata una tempesta perfetta perché il riscatto andava fatto entro mi pare il 21 giugno e il 21 giugno erano due giorni che Tacopini era in città e quindi era tutto bloccato e quindi anche lì che poi tra l'altro Moro oggi è stato venduto al Sassuolo per quanto 4 milioni adesso non mi ricordo più la cifra ma anche lì è una storia veramente assurda perché Moro non viene riscattato dalla spalla il Padova stesso non ci crede lo manda a Catania Catania fa 25 gol in 4 mesi e allora adesso vale questi soldi ma magari restava a Padova a fare la terza punta dietro al famoso Ceravolo e a quegli altri due che hanno e faceva mezz'ora in tutto il campionato quindi anche lì che colpe dai alla spalla non puoi dare delle colpe perché Moro magari rimaneva qua a fare il vice il vice Colombo e non esplodeva che ne sappiamo comunque la copina fumante Zamuner non è un fenomeno però con che risorse ha operato anche questo è un tema Daniele fai bene a tirarlo in ballo perché le campagne acquiste di Zamuner sono state quelle della SPAL in epoca di pandemia post-retrocessione con un bilancio messo come messo abbiamo parlato veramente duemila volte io credo che se Zamuner a fine stagione verrà congedato avrà un solo grosso rimpianto cioè di non aver fatto una campagna acquisti con i soldi cioè che la proprietà gli dicesse oh Giorgio qua ci sono dieci milioni vai a prendere i giocatori allora lì forse si vede dopo uno mi dirà di converso ci sono ds che devono fare con niente e portano a casa dei bei giocatori è vero è vero io sono d'accordo infatti con quello che hai detto perché la pandemia non c'è stata per la SPAL per la SPAL c'è stata una retrocessione dalla serie A catastrofica sotto milioni di punti di vista ma la pandemia ha colpito tutti tutti i ds negli ultimi due anni hanno dovuto fare le nozze con i fichi secchi SPAL compresa ogni società ha un bilancio un po' diverso perché c'è società che hanno ricapitalizzato e altre che avevano i colombani che dicevano ragazzi non dobbiamo mica chiudere la vetroresina perché sennò ma non credo che d'altre parti avessero spaccato il salvadanaio e dato i ds vai vai e compra chi vuoi insomma io con questo non voglio dire che per me Zamone era un brocco cioè Zamone è una persona rispettabilissima che ha fatto il meglio con le risorse che aveva a disposizione però secondo me insomma non si può neanche togliere neanche lui dalle varie colpe partendo dalla vicenda Dio nello scorso calcio mercato ad arrivare insomma a quest'anno che per me ha fatto un mercato sufficiente come ho già detto per gli obiettivi lei usa troppo la parola baracca rifiuta dalla spalla redarguito e ricordiamo che tu sei un ingegner civile potresti anche utilizzare varie funzioni comunque ipologie di costruzione dovresti conoscere diverse invece ti affidi alla baracca il problema è che sono le nove e mezza siamo tutti stanchini dai ora ci racconti un po' di infatti ho anticipato la cosa mezz'ora fa e non ho più detto niente allora la cosa è questa intanto Giotta Coppina mi deve un ponch caldo perché io ero lì in tribuna stampa che stavo scrivendo le pagelle alle quali tenevo molto ero a metà delle pagelle quando dal fondo della tribuna si vede arrivare Giotta Coppina accompagnato dalla responsabile della comunicazione di recente assunta Veronica Bon e ho detto cacchio e già la faccia l'hai detto proprio così vero? cosa? oh cacchio sì ho detto così no ma cacchio è una una parola testimoniale che non ha detto così no è vero è vero no non c'era Riz c'era Riccardo abbiamo gli screenshot andiamo avanti gli screenshot vabbè quelli hanno a che fare con qualcos'altro vabbè detto questo arriva e già la faccia era tutto un programma ha rilasciato quelle dichiarazioni tra l'altro in un momento un po' concitato perché tutti stavamo aspettando di sentire venturato parentesi siamo rimasti tutti in tribuna stampa al freddo perché la tribuna la sala stampa al momento non è ancora aperta a causa delle restrizioni anti covid quindi è venuto a parlare direttamente lì con i giornalisti rimasti perché alcuni erano già andati via tra le altre cose comunque ha fatto queste dichiarazioni arrembanti e vi posso garantire che nonostante i contenuti del suo intervento siano stati piuttosto spigolosi io ho visto proprio la la volontà di misurare attentamente le parole da parte sua e per fortuna che l'ha fatto insomma te lo giuro è una cosa a cui ho prestato molta attenzione perché aveva veramente gli occhi sbarrati quando oggi nell'editoriale ho scritto che avrebbe voluto prendere a pugni qualcuno cioè l'ho detto seriamente nel senso che se probabilmente lui avesse saputo chi prendere e mettere al muro per spiegare la serata ieri sera l'avrebbe fatto e non credo sarebbe finita bene viste le proporzioni dell'uomo cioè l'ho visto proprio in grave difficoltà e mi sono figurato una cosa che Tacopina se ha una caratteristica è quella di essere particolarmente affezionato a questa sua immagine da macio da 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 uomo di successo da 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 leader da leader carismatico vedere che qualcosa che è associato al suo nome alla sua figura fa queste cose cioè vive serate del genere penso sia una delle cose che in assoluto lo urti di più proprio nel nel personale non è neanche tanto un discorso sto pagando dei brocchi come potrebbe dire un presidente non è questo è proprio dire questi qua rappresentano me rappresentano Giotta Copina l'avvocato di successo la celebrità negli Stati Uniti cioè questo per lui non è minimamente accettabile e quindi credo che tutto quello che ha detto sia legato in parte anche a questo al netto del fatto che una retrocessione sarebbe una catastrofe economico finanziaria sportiva sociale cioè ok ma proprio c'è il tema di associare un fallimento a una vita di successo poi alla fine ma io penso tornando proprio al discorso iniziale che io e Leo da casa abbiamo visto varie inquadrature di Tacopina e a parte quella dopo il gol che sembrava un uomo rinato da lì in poi è stata un continuum di Tacopina così uno in particolare Polly dove stava abbaiando contro qualcuno in quel momento mi stavo chiedendo contro chi ce l'avesse temevo temevo vi dico la verità temevo distogliesse l'attenzione ancora dal vero punto temevo un'intervista contro arbitri o contro il freddo l'arbitro ieri sera c'è poco da dire sinceramente infatti ma anche quello degli altri delle altre partite insomma non ha sempre fatto a mio modo di vedere delle dichiarazioni perfette chirurgiche no 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 spesso fuori dalle righe ecco ma ieri sera quello che ha detto perché diciamo che ci possiamo dividere come pubblico in due parti chi pensa che abbia fatto bene abbia fatto bene sì dagliene su perché più gliene dai più questi si sveglieranno e poi c'è chi pensa che non fosse un uscito da fare io personalmente sono tra i secondi nel senso che ma che tu sei zitto? no zitto no però secondo me i panni sporchi che ci sono evidentemente e sono anche tanti andrebbero lavati in casa poi capisco capisco chi dice no in realtà lui è il capo non dico della baracca altrimenti mi dicono su però lui è il capo della società e quindi lui se c'è qualcuno che deve dire quelle cose è lui che può dire quelle cose e lo posso anche comprendere però in un momento del genere non so avrei preferito una spiegazione diversa una spiegazione ecco una spiegazione secondo me il motivo per cui non hai avuto una spiegazione è che neanche lui ce l'aveva è proprio quello del punto cioè l'ha detto ho chiesto spiegazioni sono d'accordo sul fatto che la sfuriata non porti mai come abbiamo anche visto in passato effettivamente a nulla di particolarmente auspicabile e su questo non posso dire niente però che cosa può venire a dirti dopo una partita del genere perché poi è anche ben noto lui come carattere di essere molto fumantino di essere una persona che sembra cioè di cuore quasi capito non lo so allora Luca a poca terra che chiama in causa il mercato in realtà la tua ricostruzione non è accurata perché non sono entrati quei soldi semplicemente cioè o meglio sono entrati dei soldi ma l'effetto a bilancio in molti dei casi che tu menzioni è stato negativo perché Petagna non è stata fatta alcuna plusvalenza Petagna è stata presa una cifra gli sono stati dati dei soldi per due anni e poi è stato venduto a una cifra ma se tu sommi diciamo il valore del cartellino all'ammortamento dell'ingaggio tu non ci hai guadagnato niente Berisha ci hai rimesso pesantemente D'Alessandro ci hai rimesso pesantemente Valotti ci hai rimesso pesantemente Fares ci hai guadagnato qualcosina Igor ci hai guadagnato qualcosina sì però ricordiamoci è stato comprato Bonifazi quell'anno a 12 milioni abbiamo fatto 4 o 5 anni addirittura di contratto a un milione rotti cioè se sarà facile recuperare quella analisi del bilancio che abbiamo proposto a ottobre con tanto di intervista a Simone Colombarini e lì ci sono i numeri e i numeri e i numeri dicono che la spalla è andata con la testa sott'acqua e non di poco a partire dal 2019 quindi purtroppo siamo ancora nella traversata del deserto nel senso che probabilmente il bilancio 22 sarà il primo ad avere sembianze più o meno più o meno adeguate insomma che permettano maggior margine di manovra sempre che poi si riesca a liberarsi di ingaggi clamorosi come quello per esempio di Murgia che ha altri due anni di contratto con la spalla ma lo stesso di Francesco che insomma per essere tolto dal bilancio deve essere venduto prima all'Empoli e comunque anche lì ci rimetterai perché l'hai pagato quasi 5 milioni e colpifero che l'Empoli ti darà dice Riccardo non si rende conto che nel stipendio c'era anche il lordo ma non è neanche quello Riccardo è proprio il fatto che se tu compri a 7 e vendi a 5 e dopo che ci hai messo l'ingaggio ci hai rimesso punto cioè economia se tu sei laureato in economia ne sai più di me di queste cose quindi non è che ci sia bisogno di spiegare penso che sia abbastanza elementare come no ma è giusto spiegarlo perché magari non tutti inquadrano bene la cosa nel senso che non è come il conto che tu fai a casa quando tiri una linea entrate e uscite è un pochino più complesso di così insomma allora volevo riportare un po' di commenti prima di andare avanti o cambiare argomento non so quali siano i tuoi intenti vale abbiamo poco meno dai ok aspetta dico a Stefano che non ho avuto paura quando ho visto arrivare Giotta Coppina perché era incazzatissimo ma di sicuro non era incazzato con noi giornalisti non ancora devo dire no ma devo dire aspetta però devo dire una cosa Giotta Coppina con i giornalisti finora è stato perfetto persona squisita perché è sempre disponibile risponde sempre quando c'è bisogno non è una persona irraggiungibile anzi è molto è molto disponibile quindi da questo punto di vista a Giotta Coppina non si può dire niente mi viene da dire che sia anche una persona che ha avuto più a che fare nella sua vita con questo mondo qui a livelli diversi è una persona di natura diversa insomma poi negli Stati Uniti hanno un'idea del rapporto con i media che non non è neanche lontanamente quello che abbiamo in Italia poi la Poli ha ragione nel senso lui facendo l'avvocato e trattando casi estremamente critici lui non può permettersi di non avere un buon rapporto con la stampa lui porta a scuola tutte le persone che sono passate di qua a livello di comunicazione secondo me con la stampa inteso ma sì ma al di là del suo ruolo di avvocato ma poi è uno che ha lavorato in tv negli Stati Uniti ha fatto radio cioè è proprio uno che con i media ci sguazza nel senso che se domani volesse smettere di fare l'avvocato e fare il conduttore televisivo potrebbe farlo e gli verrebbe bene volevo ringraziare Piero per l'attestato di stima esatto ti sei stata candidata a General Manager Spal quindi se Gazzoli dovesse decidere di fare altre scelte ti puoi candidare per fare direttore generale comunque dicevo c'erano un po' di commenti che volevo portarvi Andrea a questo punto ci chiede perché no le sfuriate poi fa un commento sui giocatori dicendo che i bambini strappagati potrebbero offendersi visto che si offendono già la prima partita in panchina tralasciando magari l'ultimo pezzo qual è per voi il motivo per cui non andrebbero fatte queste sfuriate parlo anche con Orla in quanto esperto di comunicazione esperto di sfuriate di sfuriate ne ho viste nella mia carriera mi hai viste però sono beccate anche un paio sfuriate manager sfuriate manager ricordo ancora quando Bortolo Pozzi praticamente cercò di aggredirmi in sala stampa dieci anni fa vabbè comunque altri tempi ero giovane inesperto all'epoca se senti la mancanza di Pat dice Sarah Guidort in effetti mi manca un po' Pat Carroll ma tra l'altro Pat Carroll scusate vado per la tangente poi rispondo alla domanda ci deve delle spiegazioni ci deve delle spiegazioni però Pat Carroll perché è uscito non è uscito ok è uscito con la sua amministrazione però rimane dentro come partner di minoranza però è una cosa solo tecnica però io voglio capire che cacchio è successo con Pat Carroll perché si è sganciato perché le risposte quelle non ho ancora non ho ancora capito qual era la domanda ah si sfuriate bene o male la domanda è che non hai ancora detto la tua sul discorso taccopino sfuriate sì 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 questo è il punto sfuriate se no perché sì sì no ma a caldo ieri sera ho detto madonna che casino che ha fatto Joe perché nella mia esperienza tendo a pensare che queste 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 sfuriate normalmente facciano più male che bene a una squadra come messa alla spalla tuttavia capisco le sue ragioni tuttavia capisco che la misura sia colma capisco che fosse necessario anche agli occhi dell'opinione pubblica far capire quanto lui sia scontento della situazione perché fino a un mese e mezzo fa diceva le sconfitte fanno parte del processo sapevamo che c'erano stati alti e bassi ce le ricordiamo quelle dichiarazioni e adesso ha cambiato registro ha detto no così no non esiste bisogna trovare uno o più colpevoli e questi devono pagarla sono curioso di capire cosa è successo oggi pomeriggio perché mi risulta che ci sia stato un punto della situazione tra società e giocatori e non ho informazioni in questo momento devo essere onesto cioè il mio lavoro sarebbe quello di trovarle ma al momento non ne ho perché nessuno nessuno ha parlato con me di questo credo credo ci sia anche la volontà di mantenere un certo tipo di riservatezza su questo perché come diceva Leo Primo ha certi panni sporchi bisogna lavarli in casa non è opportuno per un dirigente dire a un giornalista guarda i giocatori abbiamo detto che sono delle merde cioè non credo che questo sia successo né che comunque anche se è successo sia il caso di farlo trappelare all'opinione pubblica credo credo che se devo ragionare in termini logici siano state esposte le ragioni di ciascuna parte e si sia cercato di capire cosa effettivamente è successo perché una cosa noi non non cogliamo troppo spesso che i giocatori per ovvie ragioni non vedono le partite come le vediamo noi e che se che ne so aveste incontrato uno o più giocatori oggi in piazza non credo nessuno si sia fatto vedere in giro vi avrebbero dato la loro versione della cosa potrebbe anche esservi suonata sensata mi sento di dire questo quindi però scusa cioè chiunque fa una cappella può dirti la la sua versione dei fatti anche Alfonso ieri ti può dire che ha fatto così perché si è abbagliato dalle luci del mare cioè nel senso non c'entra niente il fatto che ognuno abbia la sua versione dei fatti perché i fatti dicono che hanno fatto una partita vergognosa che poi sia dovuta a un motivo o un altro questo è un altro discorso quelli sono problemi che loro devono risolvere perché che gli piaccia o no comunque questo è il loro lavoro e loro sono pagati per questo motivo qui ognuno di noi nel nostro lavoro non dico che non capiti di sbagliare tutti sbagliano i giocatori sbagliano non è questo il punto e ognuno sbaglia perché certo ci sarà sempre un motivo per cui uno sbaglia ma il punto non è del perché uno sbaglia il problema è capire cosa si può fare adesso per salvare una categoria che a Ferrara mancava da non mi ricordo neanche più i conteggi che sono stati fatti beh tecnicamente 23 anni 23 anni esatto la B è 50 la A è troppo importante salvare questa categoria che la si salvi perché Tacopina oggi pomeriggio ha preso a pugni in faccia tutti che la si salvi perché viene chiamato lo stregone a togliere la sfiga che se la si salvi per un gol in scarabuzzolona non è importante l'importante è che la categoria la si salvi perché poi l'anno prossimo si può ripartire da un altro tutto un altro discorso ma quest'anno adesso è importante arrivare un punto in più rispetto a quelli che sono nei play out basta fine della storia e qualunque mezzo è lecito in questo momento per poterlo fare scusate prima di chiudere voglio lanciare una delle mie tipiche provocazioni perché oggi non ho potuto fare a meno che ripensare in realtà già ieri sera fare a meno di ripensare ad alcune parole pronunciate nei mesi scorsi quindi la domanda è ma quindi aveva ragione Clotet perché Pep che può avere tanti difetti come tutti gli esseri umani disse delle cose in tempi non sospetti che lo faceva sembrare un po' esagerato disse è un grosso rischio fare una squadra giovane per provare a salvarsi dobbiamo considerare che per le condizioni nelle quali siamo partiti e per come è stata costruita questa squadra bisogna aprire la bottiglia di spumante se ci salviamo all'ultimo minuto dell'ultima giornata e via così e nei tempi più recenti la sua insofferenza verso il valore della squadra era diventato insomma notevole e quindi mi chiedevo oggi ma non è che un fondo di ragione magari quest'uomo ce l'aveva è la stessa cosa che ho pensato anch'io oggi cioè tutto sommato non che Clotet avesse ragione perché anche lui anche lui ha fatto i suoi errori gli ha commessi la gestione Tiam è inutile che stiamo qua ormai a ripetere la folla dell'orso però sotto quel punto di vista lì ossia che la squadra non avesse in realtà le capacità descritte da Tacopina principalmente Tacopina perché poi tutto il resto della dirigenza ha sempre parlato solo di salvezza e ci ritiriamo tra virgolette sotto quel punto di vista lì probabilmente aveva ragione Clotet che è un tecnico probabilmente l'equilibrio sta sempre un po' nel mezzo anche in quel caso lì Pep anche nel suo interesse ha cercato di dare una risposta alle mega aspettative che aveva dato Tacopina probabilmente giocando anche a suo tempo molto a ribasso però per cercare di allineare un po' gli animi su quelle che potevano essere le effettive responsabilità mi viene da pensare perché era comunque nel suo interesse non non commentare troppo la polla ti dice con Clotet sei punti tra Pordenone e Vicenza avventurato che se Pupilli ho capito ma non puoi fare un paragone perché Pordenone e Vicenza c'hai giocato che era la seconda terza partita cos'erano o terza o quarta era un momento diverso all'inizio stagione le squadre giocano tranquille libere non c'è la classifica non non sono non sono momenti comparabili non puoi comparare inizio settembre con inizio febbraio dai detto questo Pep non era sicuramente il problema dice Davide Davide stesso ci aveva chiesto se era parlato di ritiro allora oggi ho provato a provare a capire se c'era quel tipo di idea mi è sembrato di di cogliere un certo tipo di scetticismo sulla soluzione ritiro personalmente non lo escluderei non lo escluderei che possa accadere ma presumibilmente non accadrà in questa settimana poi vediamo intanto voglio segnalare che abbiamo toccato le 200 presenze in diretta come neanche la presenza di Sarapina e con l'Israel che gioca quindi dobbiamo anche l'Inter gioca su Prime quindi non tutti la vedono sai qual è il paradosso Leo che questa diretta sarebbe stata seguita da 50 coraggiosi se la SPAL fosse sesta in classifica il fatto è che quando ci sono le magagne c'è anche molta più voglia di capire quali sono e cosa ne pensano i giornalisti o vedete i lavori insomma ero anche tentato ma il contento crea sempre curiosità sì sì ero anche tentato stasera di chiamare Eros Schiavone e chiedergli di partecipare alla nostra diretta perché dopo 24 ore in cui si è parlato di personalità di garra di rabbia di voglia chi meglio di Eros però da quello che ho capito Eros mercoledì si allena e quindi non può però faremo un'altra occasione faremo una diretta un'altra sera per avere Eros con noi ma Silvia ci chiede ma se Clotet diceva tutto questo mi chiedo chi li ha voluti questi giocatori in inizio stagione con dei giocatori di cui non hai stima o meglio che reputi la squadra all'altezza non credo che tu non abbia voce in capitolo ma Clotet di poce in capitolo secondo me sul mercato ne ha avuta pochina perché comunque è arrivata una circostanza abbastanza strana in ritiro che non era chiaro chi era il proprietario della SPAL ha fatto il ritiro per il campionato con un branco di minorenni e altri giocatori che si sapeva sarebbero stati venduti poi quando si è sbloccato il mercato era già Ferragosto e ha preso seconda e terza scelte quindi credo che Clotet abbia avuto scarsa voce in capitolo sul mercato e uno dei motivi della sua insoddisfazione c'è stato quello e uno dei motivi del suo allontanamento c'è stato altrettanto quello nel senso che mi viene da pensare che lui a fine dicembre si è venuto a Taccopina a dire questa è la lista della spesa prendi questi se no siamo nei pasticci per dirla in prosa e Taccopina ha detto ma tu chi cazzo sei quindi ecco ho fatto ho fatto un riassunto molto molto stringato però secondo me è andata a finire così se togliete la polli restano in venti scrive Buzzo lo volevo dire anche io ma non è vero perché quando non ci sono vedo i numeri dei miei colleghi quindi polli vuol dire che hai sempre contatto sposimanti capisci è apprezzata soprattutto perché come dire ci tieni ci tieni sul pezzo perché io e Leo siamo indisciplinati guarda ti saluta anche la mamma guarda qua ciao mamma ciao Cosetta grazie per averci prestato tua figlia che è veramente ottima regina prossima al fallimento no io non la farei così tragica nel senso che la regina non ha pagato i contributi adesso bisogna capire cosa succederà però c'è una situazione talmente complessa che è impossibile di cifrarla c'è un accidente in ospedale aspettiamo prima di dire cosa succederà chiudiamo con con una nota con una nota meno pesante madonna che puntata pesante che abbiamo fatto stasera abbiamo parlato di cose veramente tragiche scenari apocalittici e robe varie dimmi ma vedi te la spalvina da due sconfitte consecutive in cui ho preso sette gol però però una nota positiva c'è eccola vai chi ha fatto il punto tu l'hai fatto bravo polli complimenti sei salita a due e hai affiancato leo che è a due con il nostro giochino stupido ricordiamolo che è quello di dire chi sarà decisivo intanto orla il nostro giochino è più in difficoltà di caparadossi quindi mi farei togliere dei punti guarda perché ho fatto due pronostici orrendi avevo detto che Tiam sarebbe stato decisivo a Monza infatti e Colombo sarebbe stato decisivo con la regina per non parlare del fatto che ieri avete rischiato che mi dimettessi perché se si fosse avverato il pronostico di Orla mi sarei dimessa perché dobbiamo raccontarla questa so che la gente dirà ma che cacchio ce ne frega ma durante la partita durante la partita nella chat di Whatsapp che abbiamo ovviamente se qualcuno fa punto lo commenta immediatamente cioè per esempio io mi sono preso le peggio maledizioni quella volta che segnò da Riva perché ovviamente non era perché te ne sei meritate sì ok nota positiva di oggi moriremo tutti è vero Buzzo purtroppo è così no dicevo e quindi ieri sera quando ha fatto gol Mancoso a Poli subito è stata lesta nel reclamare il suo punto e io appunto ho detto ma beh guardate che se entra Colombo e fa una doppietta il punto ve lo prendo io e a Poli aveva minacciato di dimettersi da questa diretta giustamente se questo fosse avvenuto per fortuna non è avvenuto per lei comunque è perché sta pagando ancora il Fantasarremo sì è vero è vero è vero ragazzi io con questi giochi qua cerco di dare il meglio detto questo siamo al cinquantasettesimo minuto direi che abbiamo fatto sufficienza per stasera anche perché veramente siamo arrivati ai livelli di tafazzismo raramente raggiunti su queste frequenze quindi dobbiamo capire chi sarà decisivo a Vicenza e in casa contro la Ternana quindi intanto inizio a segnare sulla tabella ditemi oh vabbè io ci provo con Finotto come lo freghi Leo anche se non mi sembrava quindi hai ripudiato Colombo no perché da quando io ho iniziato a giocarmi Colombo non ha più combinato niente quindi ho paura di avergli sganciato addosso una maledizione veramente incredibile voglio vedere se magari io vi dico Zanellato e Vido Zanellato e Vido quindi a Vicenza Zanellato sì e Vido anche se a Vicenza in realtà adesso sto facendo altre cose però ecco stavo esattamente arrivando lì l'ultimo numero 10 di aver deciso un Vicenza Spal è proprio per quello esatto Sergione lo salutiamo ciao Sergio ci siamo scambiati qualche messaggio qualche tempo fa io e Sergio al dire fatto che sono sempre felice di avere le sue notizie mi ha promesso che una volta viene in diretta quindi siamo pronti siamo pronti quando Sergio vuole noi siamo qua e sarà sempre la facciamo anche di lunedì mattina anche di lunedì mattina alle 7 se Sergio da quanto gli vogliamo bene ma al di là di questo sì sai che Leo ci pensavo ieri sera non possiamo tesserare floccari per una partita quello io diciamo allora non può andare la situazione può solo che migliorare la davanti quindi secondo me se gli passa una palla gli caccia una petarda due cose uno Colombo secondo voi sta sulle balle avventurato due vedremo Zucculini in campo la prima domanda è no la risposta non gli sta sulle palle ma in questo momento è in grossa difficoltà anche fisica Colombo e la seconda risposta è assolutamente sì perché secondo me davvero tu credi davvero che arrivi l'ordine presidenziale di far giocare Zucculini secondo me sì se non dal primo minuto se non dal primo minuto dei minuti Zucculini li fa sicuro come loro ammetti che perdi a Vicenza o non fai risultato e non gioca ancora Zucculini secondo me quanto è nana lo fa giocare esatto mamma mia la partita dopo viene schierato Taccobina come centravanti ieri si è proposto di giocare praticamente sì esatto ma magari come portiere c'era la stessa ma perché come portiere ma Polli tu hai detto finotto per entrambe le partite infatti volevo dirti che il secondo mi rigioco manco perché a quanto pare sembra che io non lo stia maledicendo almeno quello aspetto a dirlo e quindi Zanellato e Vido per Leo ma io penso che a un certo punto Dariva dovrà darmi soddisfazioni di nuovo quindi a Vicenza dico Dariva è anche una partita in cui gioca da ex magari magari avrà delle motivazioni extra e per la partita con la Ternan ma non posso non posso giocarmi lo stesso che ha giocato la Polli non lo so non so chi mette i tre paldelli così rimani fermo ma i tre paldelli non ci hanno fornito una tempistica per il suo rientro quindi magari non rientra per la Ternan non lo so voglio provare un colpo a sorpresa Giuseppe Rossi ma sai che ci avevo pensato anch'io entra il segno vedo che dopo un'ora di diretta la situazione sta degenerando quindi è meglio che salutiamo tutti ok facciamo un appello a Zucculini che se decide di giocare anzi se qualcuno deciderà di farlo giocare non giochi con la collana al collo perché te la fanno togliere a un certo punto e ti tocca lasciare la squadra in 10 Viviani Buzzo non ci ha sbloccati su Instagram non mi risulta per quanto riguarda non è ancora sbloccato neanche lui esatto quando è il suo infortunio è una roba un po' brigosa e probabilmente una specie di ricaduta su quello che gli era già successo perlomeno nello stesso punto prossima partita non credo giocherà per quella dopo ancora si spera di recuperarlo infatti Luca poco attrazione ti lo chiede credo che per questa sia poco probabile mentre le quotazioni potrebbero salire per la preta con la ternana ma è una situazione che viene valutata praticamente su base quotidiana e quindi in base a come si sente lui e quindi vediamo si naviga un po' a vista detto questo un'ora e due quasi tre minuti direi che possiamo terminare qui grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta grazie a tutti quelli che ci seguiranno in differita sia su Facebook sia su YouTube e niente ci vediamo non siamo ancora sbarcati su Twitch perché se avessi il tempo di studiarlo su Twitch ripeto se c'è qualcuno di esperto che vuole farmi un corso accelerato lo aspetto perché così mi risprimerebbe un sacco di ore di prove e prove bene è tutto grazie ragazzi grazie a chi ci ha seguito ancora una volta ciao a tutti ciao a tutti buonanotte